Siamo nel backstage di Merry Christmas Peter Pan al Gran Teatro, c'è Roberta Capua che è praticamente una veterana del spettacolo. Ormai è una tradizione, per me non è Natale se non festeggio insieme ai bambini Merry Christmas Peter Pan, sono, non lo so, perso quanti anni che vengo a presentare questa bellissima manifestazione ed è sempre un piacere ritrovare gli amici, ritrovare i bambini, vedere quanta solidarietà e quanto affetto c'è nei confronti di questa associazione. Comunque sta un po' cambiato, Merry Christmas Peter Pan, Peter Pan è cresciuto mi sembra. Pan finalmente è cresciuto, non è più il bambino di sempre, ma mantiene la sua caratteristica, che è quello di essere un grande sognatore e di essere un amico dei bambini. Certo, quanto è importante aiutare questi bambini? È fondamentale, loro ne hanno assolutamente bisogno, vivono un momento difficile della loro vita e hanno bisogno di supporto. Allora facciamo un appello a tutti quelli che ci seguono per aiutarli. Assolutamente, assolutamente, si avvicina il Natale, anche un gesto piccolo può significare moltissimo per questi bambini che soffrono, sono bambini che soffrono. Grazie Roberta, buon lavoro a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.